Dov'è la vittoria, le porga, la chioma che schiava di Roma, il Dio l'Adeo. Fratelli d'Italia, Italia si è destra, che nel modicipio si è cinta la testa. Michele Camberlin, Movimento 9 dicembre, avete fatto qualche giorno di presidio alle rotonde del Grifone per intenderci, poi siete stati all'interno con un banchetto per volantinaggio. Oggi che cosa vuole essere questo vostro corteo partito dal Largo Parolini qui al Ponte? Vuole essere solo una sensibilizzazione del popolo, anche del comune di Bassano e degli italiani. Cerchiamo supporto in quello che stiamo facendo, lo facciamo per noi, per i nostri figli e per tutta la gente che purtroppo non ha lavoro. Chi ha lavoro comunque non sta bene. Vogliamo solo che la gente di Bassano capisca che siamo qua per loro e per tutti quanti, tutti gli italiani. Quindi il vostro scopo finale in due parole qual è? Il nostro scopo è raggiungere il più numero di gente possibile per far capire allo Stato italiano che l'Italia sta male, che l'italiano sta male e che il popolo è morto. Abbiamo perso la dignità, abbiamo perso qualsiasi cosa che i nostri noni ci hanno creato. Ecco, oggi però non eravate tantissimi, come mai? Perché purtroppo forse la gente si vergogna di scendere in piazza. Noi è più di una settimana che ci mettiamo la faccia, ci mettiamo faccia, tralasciamo lavoro, famiglia e noi siamo qua per fargli vedere che siamo qua lo stesso. Anche se loro non credono in noi, noi ci siamo. Ecco, prossimi passi, velocemente? In un momento continuiamo a fare volantinaggio all'interno del griffone e ancora per un giorno, giusto per non creare ulteriori disagi. Poi ogni giorno cambieremo passo dopo passo finché arriveremo ad essere un numero considerevole di persone. Grazie.